Non siamo fatti, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale, vale puro. Sì, grazie Presidentessa. Vado un po' in ordine sparso, non è... non sono molto... Consigliere Fuggetta. Ok, in attesa della risposta alla domanda, alla richiesta del Consigliere Piffer. Io faccio queste domande un po' in ordine sparso, scusatemi, non sono stato rigoroso un po' anche adesso nella presentazione dell'assessore, mi sono venuti in mente dei quesiti. Allora, parte delle entrate, entrate tributarie. Volevo sapere in particolare sulla Tari come mai abbiamo votato un importo quando abbiamo approvato le aliquote e il piano economico finanziario delle aliquote e poi invece a bilancio ne troviamo un altro. Sempre sulla parte delle entrate, entrate extra tributarie in questo caso, quindi titolo terzo delle entrate, faccio riferimento a pagina 8 di 17 del bilancio 2015. Tra le variazioni in attivo, quindi codice 3020.550, volevo capire questa variazione in attivo di 1.636.748 per proventi diversi da concessione in uso di beni comunali, a che cosa si riferisce? La stessa domanda riferita all'intervento a pagina 9 di 17, intervento 3050.610, variazione in aumento di 1.092.500.000 euro, rimborsi per affittanze comunali. La stessa domanda di chiarimento, invece per la sempre parte delle entrate, sempre pagina 9 di 17, intervento 3050.630, questa volta per una variazione in diminuzione consistente di 4.131.442. che determinano complessivamente alla fine un aumento rispetto, se ho capito bene, correggetemi se sbaglio, un aumento delle entrate extra tributarie di 1,1 milioni, come ordine di grandezza. La domanda è un po' articolata per capire come si arriva in questi tempi all'aumento di 1,1 milioni di euro delle entrate extra tributarie. Volevo capire anche, per quanto riguarda il riepilogo delle spese che è stato fatto vedere prima per interventi, la giustizia. Allora, quello che ho imparato io dalla legge di stabilità del 2015 è che da quest'anno le spese di giustizia non vengono anticipate più dai comuni, grazie al cielo, e in realtà dovrebbe esserci un fondo misterioso a Roma che dovrebbe coprire in realtà le spese dei tribunali per chi come il Comune di Monza in tutti questi anni ha anticipato senza riavere il rimborso, perché di fatto sappiamo che avanziamo 16 milioni di euro dal Ministero, quindi ecco, com'è possibile che invece le spese per giustizia aumentino anziché diminuire? Avevo un'altra domanda che avevo anticipato durante la Commissione e volevo capire, per quanto riguarda, adesso non mi ricordo la voce, però è molto chiaro, contributi ai consorzi, consorzio CBM, quello che teoricamente avevamo posto in liquidazione, abbiamo ancora, mi sembra, 900 mila euro, credo, che diamo come contributo al consorzio. Volevo capire, volevo avere un dettaglio su questo contributo che continuiamo a dare a un consorzio che è in liquidazione. Volevo capire anche questa cosa. Ringrazio l'assessore perché ha dato quella spiegazione finale molto importante, secondo me, perché se io vado a vedere i numeri, vedo appunto una spesa corrente di 135 milioni a fronte di una spesa corrente del consuntivo 2014, 127, dopo aver sentito parlare di tagli, quindi quel ragionamento è molto importante, sia sui minori... Vabbè, mi fermo. Grazie. Allora, sì, le domande erano relative alla giustizia, come appunto, ripeto la domanda, sapevamo la regola che quest'anno le spese di giustizia non devono essere più anticipate dai comuni vestiti dal Ministero, come è possibile che vediamo a bilancio di previsione un aumento, ma contati 200 mila euro sulla voce giustizia. Poi, l'altra domanda, avevo avuto la risposta, quella sull'Atari, però io mi ricordo che nel PEF avevamo approvato 20 milioni, sono andato a ricontrollare 20 milioni e 8 e qui invece abbiamo 22 milioni, quindi non possono essere 180 mila euro la differenza, a me non torna, quindi vorrei capire come mai il Consiglio Comunale vota 20 milioni e 8, 20 milioni e 700 mila erotti di tari e poi a bilancio ci troviamo 22 milioni invece. Quindi questo è un chiarimento che volevo. Lo stesso chiarimento lo vorrei sul Fondo di Solidarietà Comunale, sul sito, quello del Ministero, io trovo 493 mila euro, 491 mila euro, perché a bilancio mettiamo 1 milione e 2 proprio per capire come girano queste somme. Per l'assessore Marrazzo volevo domandare se la delibera del oggetto 162, la verifica delle qualità, delle quantità eccetera eccetera, se nella perizia sostanzialmente si è stata fatta una nuova perizia da parte dell'Agenzia delle Entrate o se è la stessa dell'anno scorso, visto che l'area è unica e quindi se la somma sostanzialmente, la domanda è se la somma è identica oppure ci sono delle differenze. Io veramente avrei altre domande da fare. Consigliere Fugetta, discusi, vale per lei quello che vale per tu. Allora, due semplici domande. La prima, negli allegati al bilancio, vi è una parte in cui è spiegata l'attestazione dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori. Non si riesce a comprendere esattamente però quanto ammonta il totale dei debiti del Comune di Monza ad oggi nei confronti dei suoi fornitori. La seconda domanda invece riguarda nel piano delle allenazioni l'allegato B dove vedo che ci sono elencati dei giardini condominali. Volevo qualche maggiore informazione su questo tipo di allenazione e capire se c'è comunque un diritto di prelazione nei confronti dei condomini oppure se possono essere allenati anche a terzi. Grazie. Non siamo un partito, non siamo una cassa Siamo cittadini, punto e basta Ognuno vale uno Ognuno vale uno Ognuno vale uno Vale uno Vale uno Vale uno Volevo qualche maggiore informazione su questa situazione